Hai tra i 18 e i 29 anni e devi fare delle scelte per il tuo futuro? Ti interessa la formazione, il lavoro, anche all'estero, i tirocini, la creazione di imprese, il volontariato, ma anche il benessere e il tempo libero? C'è l'Informa Giovani, che ti accompagna con informazioni e consulenze, per aiutarti a scegliere il percorso più giusto per te. Cosa aspetti? Videochiamaci oppure prendi un appuntamento o vieni a trovarci in Piazza Grande 17. Orienta il tuo futuro. Vai sul sito www.comune.modena.it e scopri tutte le opportunità utili per te. È gratis!